In crescita, ma adesso è anche costante. Cosa avete fatto? Come avete lavorato? Io da buon mental coach ho fatto un lavoro extra che in realtà non serve perché è un giocatore che secondo me ha qualità tecniche, ha una taglia fisica di livello, un ragazzo che ha l'educazione e cestistica importante perché viene da una scuola sicuramente buona, quindi mettendo assieme tutti i pezzi perché Molaschini non può giocare a un livello come questo, insomma, in Serie A. Questa è la domanda che mi sono posto quest'estate e a lui chiedo molta qualità nei minuti che gioca. Lui deve guardare meno a quanto gioca, in effetti poi sta giocando 23 minuti anche da playmaker, però dal punto di vista della consistenza mentale lui e delle scelte in campo, lui è un giocatore chiave per noi e questa responsabilizzazione credo che a lui non solo faccia piacere ma lo fa anche lavorare, performare nel migliore dei modi perché si sente investito di un ruolo importante a prescindere da quanti minuti sta in campo. Altra domanda? Grazie.